La testa, c'è il cross in area, occhio, palla riconquistata dagli avversari, arriva la notizia dagli altri campi, c'è stato un calcio di rigore, andiamo a sentire i dettagli L'arbitro ha segnato la massima punizione, può andare in porta qui, e c'è il gol, accorciano le distanze, forse un po' troppo tardi Sulla carta sembrerebbe una passeggiata per la formazione di casa, se poi guardi i numeri e la voce i gol segnati, più di tutti Lewandowski, 1-0, troverai il gol subito Lewandowski Lewandowski E' avanti il Barca, occhio all'avanzata blaugrana Dembele Dembele, Dembele, sblocca il risultato Dembele, sblocca il risultato Dembele, sblocca il risultato Dembele, sblocca il risultato Dembele, sblocca il risultato